e ragazzi in ascolto sulla di buon consiglio tutti gli ascoltatori che stanno seguendo questa nuova puntata di spazio giovane un santo pomeriggio a tutti ave maria bentornati sulle frequenze di questa radio e siamo giunti alla 32esima puntata ecco del ciclo di catechesi intitolato il dono della divina volontà e stiamo passando in rassegna ecco una serie di brani e di passi significativi degli scritti che fanno comprendere diciamo dal vivo dopo aver cercato di presentare in maniera sistematica alcuni tratti salienti del vivere nel divino volere alcune cose del tutto peculiari e caratteristiche della divina volontà la volta scorsa abbiamo visto come la dottrina della divina volontà così come presentata da gesù alla serva di dio luisa piccarreta rappresenta un ineditum nel senso che prodromi e cenni sparsi qua e là si trovano in alcuni scritti di alcuni santi i casi più eccellenti diciamo di persone che sono state molto sensibili al tema della divina volontà che l'hanno affrontate sotto ottimi punti di vista sono per esempio un sant'alfonso maria degli cuori soprattutto uno dei suoi best seller che l'uniformità al divino volere oppure san luigi maria grignon da montfort quando spiegava bene come nella divina maria si trova l'unione profonda con dio e con i suoi voleri realizzando l'unione con coleghe di tutto e in tutto e per tutto è vissuta di divina volontà però una trattazione sistematica e complessiva soprattutto con quegli aspetti del tutto peculiari che sono rappresentati nel divino volere cioè dalla possibilità di essere trasformati nella divina volontà fusico la divina volontà operare nella divina volontà si tratta di puntualizzazioni che gesù stesso ha detto non sono state fornite nei tempi precedenti e questo perché i tempi le scelte e i momenti per ciò che la bontà di dio dispone spettano a lui c'era stato un tempo lungo di preparazione e poi e attraverso luisa piccarri da questo dono messo a disposizione dopo dire di tutta la chiesa oggi un altro tassello diciamo così nel nostro percorso che è il seguente è uno scritto ancora dello splendido quindicesimo volume e la volta scorsa era del quattordicesimo che praticamente spiega come la divina volontà sia una santità del tutto particolare quindi una forma più che altro di santità inedita gesù dirà e testualmente cito un passo dello della una citazione dello scritto che poi leggeremo per integrare l'intero tu credi che sia una santità come le altre santità un bene una grazia quasi pare alle altre che ho fatto per tanti secoli gli altri senti tutta la chiesa no no qui si tratta di un'epoca nuova qui si tratta di un bene che deve servire a tutte le generazioni quindi questo è il dono che il signore fa attraverso la divina volontà quindi si tratta di qualche cosa di realmente grande importante e inedito ho scelto anche questo brano e perché questo punto della non viene il termine non si dice in italiano inediticità insomma ecco quindi dell'essere un qualche cosa di inedito è un punto peculiare di questi scritti e ci deve essere chiaro perché altrimenti non se ne colgono alcune caratteristiche profonde che sono anche quelle che ne fanno veramente un unicum nella storia a mio avviso della spiritualità cattolica e quindi determinano anche un comportamento conseguente allora il comportamento conseguente è semplicissimo allora vivere nella divina volontà così chiarisco anche un punto ogni tanto qualcuno mi fa una mail mi chiama preoccupato è compatibile con tutti gli stati di vita con tutte le vocazioni con tutto e con e conformi a divini voleri cioè può vivere può desiderare può entrare nel divino volere il monaco certosino così come la donna sposata che fa la casalinga d'accordo chiunque d'accordo l'unica cosa la cosa fondamentale è che altra cosa fondamentale da capire qui non si tratta di semplicemente di aggiungere ulteriori nuove preghiere a quello che già la tradizione della chiesa ampiamente consegnato che va che va più che bene è semplicemente un modo nuovo quindi un fatto interiore di pregare di fare tutte le cose evidentemente anche la coscienza di chi si accosta a questo mondo dovrà fare delle valutazioni delle scelte nel senso che se ho già una vita interiore parecchio appesantita da tante cose e mi accorgo che alcune cose mi complicano quella libertà interiore che deve avere l'anima per come dire concentrare le sue energie polarizzandole su questo fine quindi iniziare un cammino che mi conduca la fusione con la divina volontà punto è ovvio che ogni singola coscienza e ci deve arrivare da sola farà delle singole scelte d'accordo quindi ricordate san paolo cosa scrive nelle sue lettere c'è una volta che ho conosciuto gesù cristo mi pare che le lettere filippesi o tutto il resto è diventata spazzatura cioè la considero tale nei confronti del guadagnare cristo di essere trovato con lui non con la mia giustizia derivante dall'opera della legge ma con quella che deriva dalla fede in cristo d'accordo certo che qui nella chiesa cattolica dovunque uno si collochi d'accordo perché si tratti di un'istituzione preferibilmente riconosciuta dalla chiesa che ci abbia degli statuti eccetera è chiaro che cristo lo può trovare d'accordo dovunque questo io sono molto allergico di per sé e sono contento che in quanto prete diocesano non ho diciamo assunto nessun colore quindi non mi sono sposato nessun ordine religioso nessun movimento ecclesiale zero e ne sono contento per rimanere equidistante dinanzi a tutto cioè il signore è possibile trovarlo dappertutto nessuno ne ha il monopolio non esistono cammini di serie a di serie b o di serie c a priori esistono semplicemente le persone e le loro disposizioni d'accordo perché una santa teresa di gesù bambino dato per fare un nome a quello che dicono i biografi è diventata grande santa in un monastero che non era proprio il top diciamo così della del fervore e della e dell'osservanza a quanto riferiscono alcuni biografi e quindi il problema è che c'entrata una che voleva diventare santa e diventa santa anche in un monastero che non sta messo troppo bene d'accordo quindi ricordiamo sempre che non c'è niente che può supplire e questa è una cosa molto importante che si comprende molto bene dentro queste rivelazioni alle libere volontà delle singole persone umane cioè il protagonista del tuo cammino di fede sei tu dovunque ti trovi quindi non utile andare a parlare ma io faccio parte di questo movimento faccio parte di quest'altra cosa posso fare anche quest'altra eccetera eccetera è una scelta di coscienza che deve fare l'animo mio non non mi sono stato nessun movimento che sia ogni volta che fa una domanda dice ma io faccio parte di questo movimento ci posso stare la risposta è di una semplicità estrema dico se il movimento è riconosciuto dalla chiesa la chiesa ha già preso delle responsabilità davanti a dio per la tutta e per la custodia della bontà della tua anima quindi ovviamente certo un conto è un movimento un conto sono le persone che lo portano avanti perché anche nella chiesa cattolica chiesa cattolica e santa ma alcuni figli della chiesa e a volte anche qualche uomo di chiesa può darsi che non sia otto quanto questo gran santo quindi capite cioè le zone perfette non esistono d'accordo le zone franche d'accordo perché dappertutto ecco quindi i posti dei puri anche il papa qualche volta non esistono d'accordo non esistono esistono anime sincere che possono e vogliono intraprendere un cammino serio di santità e questo lo sa dio c'è un salmo bellissimo che a me piace tantissimo che è il salmo 83 beato chi trova in te la forza e decide nel suo cuore il santo viaggio il viaggio verso la santità è un fatto personale certamente che si vive nella chiesa e si percorre con la chiesa dentro la chiesa ho già parlato in tante circostanze di queste cose continuo a ripeterlo e a ribadirlo fino alla morte d'accordo senza muoversi è chiaro come dice gesù nella casa del padrone sono molte dimori sono molte vie per arrivare a questo questa a mio avviso non è un'altra via d'accordo questa è come una una come dire una cosa trasversale perché fondersi con la volontà di dio significa semplicemente fare con la in tutto rivederla riconoscerla e fare con la massima perfezione possibile tutto quello che lui ti fa conoscere piano piano essere suo volere se non dovesse essere suo volere che tu appartenga alla realtà x che faccia il percorso y non cosa z se tu stai sinceramente immerso in un cammino di ricerca della divina volontà lui lo farà capire d'accordo punto è semplicemente ciò che io dico sempre questo fa bene la tua anima ti avvicina a dio ti arricchisce senti che tu cresci interiormente non è soltanto un fatto emotivo ma la tua vita cristiana aumenta il tuo rapporto col signore più bello la tua preghiera diventa più costante tante altre cose allora questi sono segni buoni non vedi tutte queste cose pregaci sopra e fai discernimento punto questi sono i criteri e non dobbiamo neanche cercare perché vedete le scelte di fondo della nostra vita interiore noi possiamo chiedere un consiglio d'accordo e attenzione che anche questo è un altro punto molto molto importante cioè io vedo il cammino della divina volontà come l'ho detto tante volte ma lo continua a ripetere e più passa il tempo più comprendo quanto questa cosa è importante come altamente responsabilizzante la coscienza della persona cioè tu non puoi andare dal prete e dire al prete che devo fa aspettando di che il prete si sostituisca la tua libertà e ti dica fai questo 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 e quest'altro sto modo che è un aberrazione a mio avviso anche di intendere la direzione spirituale più diffuso di quanto noi pensiamo ma dio con noi non fa così capite dio non ci dà mai la cosiddetta pappetta pronta si vede anche nel suo modo di rivelarci dio ti dà degli input ti dà delle sollecitazioni delle stimolazioni che tu devi recepire le devi fare tu e imparare ad ascoltarle devi rielaborarle di regarci sopra e poi tu devi capire sulla base dei segni della presenza di dio che sono soprattutto la pace la gioia dove si trova la volontà di dio in un secondo momento dopo che hai fatto questo lavoro puoi e questo è segno d'umiltà e quindi questo va bene confrontarti chiedere un consiglio di resenta padre c'è stata questa cosa qui io ci ho già pregato sopra mi sento orientato a fare questa scelta mi sembra che questa cosa mi lasci tranquillo nel cuore pacifico lei ci avete qualcosa che non va c'è qualche contraindicazione delle cose molto molto positive qui so 50 anni che la chiesa giustamente insomma che attraverso il concilio Vaticano secondo per esempio valorizza giustissimamente d'accordo il ruolo del sacramento del battesimo e il ruolo per esempio dei cristi fideri slaici cioè delle persone che sono membri della chiesa in quanto membri della chiesa cioè quanto battezzate a prescindere poi dal ruolo e dalla posizione che hanno no è solo che che succede che molte volte io lo sento anche tante riunioni che si fanno in giro nella chiesa nelle diocesi si si esaltano questi concetti che sono veri sono verissimi ma ancora non sono profondamente vissuti nelle coscienze dei fedeli cioè che non sono ancora formate a e non comprendono come il rapporto con dio personale vivo cioè ti vede te come protagonista dinanzi a lui capito non con i tuoi percorsi stravaganti e strani sempre dentro un contesto ecclesiale ma dentro un contesto ecclesiale che però valorizza la tua libertà la tua volontà le tue possibilità di scelta ecco quindi il senso anche di questo percorso che stiamo facendo è proprio di porci dinanzi a tante cose in modo tale che uno le ascolta e poi rielabora sceglie si orienta e decide capite caro sacerdote tranquillamente il nome io sono d'accordo questo qui che fra pio molto molto esperto nella dottrina della dina volontà dice se le anime cominciano a entrare bene in questo mondo diminuisce il lavoro di noi preti cioè nel senso che l'ambito riservato alla cosiddetta direzione spirituale si assottiglia per forza d'accordo perché non c'è più bisogno di qualcuno che ti mette il succio in bocca perdonatemi il termine l'espressione ti dice di fare così 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 eccola perché tu impari a discernerlo quindi certamente che puoi desiderare avere i sacramenti saranno sempre indispensabili la confessione sarà sempre indispensabile il consiglio il colloquio sarà sempre buono se fatto in un certo modo ecco ma non inteso in forma come dire infantile o de responsabilizzante spero di essere stato chiaro perché questo è un passaggio fondamentale a mio avviso è uno dei punti caratterizzanti il mondo del divino volere ora leggiamo il brano del 14 aprile del 1923 di cui prima ho fatto un piccolo cenno e che è uno dei brani a mio avviso significativi sono tantissimi ma ripeto dobbiamo fare una piccola cernita all'interno degli scritti dice così stavo pensando tutto ciò che il mio sempre amabile gesù mi va manifestando sulla sua santissima volontà e molti dubbi e difficoltà si facevano nella mia mente che non credo sia necessario dirli qui onde muovendosi nel mio interno e stringendomi forte al suo cuore mi ha detto attenzione figlia di letta della mia volontà tu devi sapere che quando voglio fare opere grandi opere a cui tutta l'umana famiglia deve prendere parte attenzione sempre che lo volesse è mio solito accentrare in una sola creatura tutti i beni tutte le grazie che quest'opera contiene affinché tutti gli altri come a fonte possano attingere a quel bene quanto ne vogliano qui se c'è qualcuno dall'intelligenza fine già capito dove appara nostro signore comunque proseguo quando faccio opere individuali do cose limitate invece quando faccio opere che devono servire al bene generale do cose senza limite e adesso spiega ciò feci nell'opera della redenzione qual è la creatura cardine dell'opera della redenzione? qual è? la creatura cardine dell'opera della redenzione è la beatissima e sempre vergine maria chiaro no? tutti quanti sappiamo questo la creatura cardine dell'opera della redenzione è la madonna la madonna era forse una creatura un po' particolare rispetto a tutte le altre domanda retorica no? proseguo la lettura ciò feci nell'opera della redenzione per poter elevare una creatura a concepire un uomo e dio cioè la madonna esiste in funzione della sua missione di essere la madre del figlio di dio e che cosa gli ha fatto nostro signore alla madonna per farle compiere questa missione? oh! dovetti accentrare in lei proseguo la lettura tutti i beni possibili ed immaginabili dovetti elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna tanta roba questo che sta dicendo Gesù e come il mio celeste padre mi generò vergine nel suo seno la generazione eterna del verbo col germe virginale della sua fecondità eterna guardate che bello senza opera di donna ed in questo germe procedette lo spirito santo questa è altissima teologia trinitaria così la mia celeste mamma con questo germe eterno tutto virginale della fecondità paterna mi concepì nel suo seno vergine senza opera d'uomo cioè ogni tanto noi dobbiamo pensare a quello che è successo alla madonna perché la madonna ha concepito il figlio di dio e la sua santissima umanità attenzione senza concorso d'uomo questa non è una leggenda come va vaneggiando come ha vaneggiato negli ultimi 60-70 anni qualche pazzoide qui mi si perdona il termine che mi è scappato ma stiamo proprio in pazzia allo stato puro ecco è un fatto reale c'è qualcuno che sa spiegare come è possibile che nascono la natura umana senza per quello che noi conosciamo in questa in questa vita ovviamente a quei tempi non c'è neanche il caso di parlare di tecniche ecco molto moderne come è possibile una cosa di questo genere quindi senza nessun tipo di concorso da parte della parte maschile ecco è chiaro che perché questo potesse avvenire la madonna chi è? la piena di grazia la prima dopo dio tutti quanti i benefici che noi conosciamo tutti quanti i privilegi che lei ha che come insegnano i maestri i teologi sono tutti tutti da ricomprendere e da concepire in relazione alla sua missione unica nel corso della storia della Chiesa nessun'altra creatura ha avuto la missione di essere la madre del figlio di dio fatto carne nessuna ma questa opera dell'incarnazione era vedete qualcosa di Gesù era un'opera individuale per lei quindi era una grande grazia straordinaria data a Maria santissima perché diventasse una grandissima santa oppure era un'opera di dimensione mondiale universale è domanda retorica cioè la retenzione era opera che dovrebbe essere potuto andare a beneficio di tutta l'umanità d'accordo quindi attraverso questa sua esperienza particolare dio stava compiendo un disegno di portata universale una vergine quindi cosa faccio cosa ha detto Gesù concentro in una sola creatura tutti i beni e tutte le grazie che questa opera contiene affinché tutti i beneficiari della redenzione possano poi attraverso questo canale riceverne quanto ne vogliono ecco perché la Madonna piange a tutte le grazie tutte non esiste nessuna cosa che ci sia nessuna grazia creata come la chiamano i teologi o gratis data così si chiamano che la Madonna non ce l'abbia avuta tutte nessuna escluse e più di qualunque altro membro della chiesa d'accordo andiamo avanti la trinità sacrosanta dovete dare del suo a questa vergine divina per poter concepire me figlio di dio mai la mia santa mamma poteva concepirmi se non avessi avuto in lei nessun germe mai questo germe della fecondità paterna bellissimo quello stesso germe della fecondità paterna per cui ab eterno il padre genera dalla sua sostanza il verbo eterno cioè questa è tanta roba questa qui ragazzi ecco bene ora siccome lei era della razza umana questo germe della fecondità eterna diede virtù di concepirlo uomo e siccome il germe era divino nel medesimo tempo procedette lo spirito santo così attenzione questo è un passaggio fondamentalissimo nel medesimo tempo che generai nel seno della mia mamma procedette la generazione delle anime sicché tutto ciò che ab eterno successe alla santissima trinità in cielo ripete nel seno della cara mamma mia è bellissima questa cosa e forse sarebbe il caso di riprendere questo questo passaggio perché è veramente meraviglioso allora ripeto siccome nel generarmi il padre nel medesimo tempo procedette lo spirito santo così nel medesimo tempo che generai nel seno della mia mamma procedette la generazione delle anime è bellissima questa cosa cioè questo San Luigi Monforto lo dice lo dice chiarissimamente dice che quando il verbo si fece carne attenzione nel seno di Maria Santissima insieme scelsero tutte le anime di quelle che si chiamano tecnicamente i predestinati è quello che dice qui come alla generazione eterna del verbo immediatamente senza nessuna soluzione temporale perché sono operazioni eterne queste qui appena il verbo è generato immediatamente ispira lo spirito santo perché dal rapporto d'amore tra il padre e il verbo eterno subito ispira lo spirito immediatamente così appena il verbo si fa carne istantaneamente vengono come dire generate tutte le anime le anime lette chiaramente le anime destinate a far parte della chiesa della grande della santa chiesa d'accordo perché le anime dei cosiddetti predestinati chi sono non sono altro che quelle persone oltre ad essere chiamate alla santità e chiamate alla santità vuol dire chiamate nella chiesa o a ricevere la santità attraverso la mediazione anche indiretta e non consapevole da parte del chiamato della chiesa che Dio nella sua prescienza sa che risponderanno positivamente custodiranno la grazia ricevuta si santificheranno e la porteranno a compimento ecco perché Gesù dice molti sono i chiamati e pochi gli eletti questo cosiddetto mistero della predestinazione su cui poi la chiesa a un certo punto ha smesso un pochino di parlare troppo perché purtroppo in ambiente eterodosso soprattutto calvinista sono stati fatti degli sproloqui grossi quanto una casa su questo discorso della predestinazione che uno pensa che il nostro signore stia facendo una sorta di tiro al bersaglio questo me lo porto in paradiso e quello lo mando all'inferno come se dipendesse da lui capite quindi non è così perché la predestinazione alla grazia universale la predestinazione alla gloria insegnerà chiesa in vista dei meriti d'accordo quindi Dio non esclude nessuno la non salvezza è sempre questo teniamolo presente sempre esito della mancata accoglienza da parte dell'uomo io ho detto tante volte figlioli miei cari in congregazione della dottrina del culto divino sono anni anni non lo so ma è da diverso tempo che stanno affrontando la cosiddetta questione del promultis che cos'è questo promultis scusate che faccio una piccola parentesi ma questa è una catechesi quindi è mi resta con un pochino di istruzione la formula di consegrazione della santa missa la formula di consegrazione del calice della santa missa nell'edizio tipica latina perché apriamo una piccola parentesi qualcuno chiama la messa antica la messa in latino la messa nuova la messa in italiano veramente non è così d'accordo perché la messa nuova è il messale il missale romanum di paolo VI edizio tipico ovviamente è in latino che è la lingua ufficiale della chiesa d'accordo nelle liturgie ufficiali della chiesa presedute dal papa e non solo anche da vescovi e cardinali quando restano le canonizzazioni si usa il messale di paolo VI in latino d'accordo e non c'è nessuno scandalo se un prete la domenica mattina uscisse e celebrasse la messa di paolo VI col messale in lingua latina non è che nessuno potrebbe andare dal vescovo a dire che è successo il prete ha celebrato la messa in latino orrore no non si usa non si fa ma in teoria si potrebbe tranquillamente fare allora se uno prende la formula della consagrazione in latino c'è scritto ic steni calix anguinimens provobis e promultis e fundetur in remissione peccatoris cioè la traduzione letterale sarebbe che è stato versato per voi e per molti in remissione dei peccati cioè quel promultis ora però multis in latino può avere una doppia significazione può indicare o una moltitudine quindi oppure è un modo generico per dire sì molti però tutti allora come traduciamo in italiano per molti o per tutti per esempio la traduzione in lingua volgare italiana ha scelto la formulazione per tutti qualcuno dice e no perché non tutti purtroppo beneficeranno di quel sangue quindi sarebbe meglio tradurre promultis per molti allora obiezione legittima se ne stanno discutendo è chiaro che l'obiezione è legittima ma il problema è che a prescindere poi dalla soluzione che daranno d'accordo entrambe le versioni sono accettabili con una piccola specificazione se io dico che Gesù ha versato il sangue per molti e non per tutti non significa dire che lui non vuole che tutti siano salvi no vuol dire accentuare l'aspetto della libertà della risposta dell'uomo vuol dire che molti beneficeranno di questi ma purtroppo non tutti perché purtroppo molti ci sputeranno sopra ahimè coscientemente o inconscientemente se io dico come adesso versato per voi e per tutti è chiaro che non sto dicendo che tutti andranno in paradiso no ma sto dicendo che nelle intenzioni di Gesù la salvezza è offerta a tutti cioè non ci sono preclusioni di principio nei confronti di nessuno sarebbe assolutamente inaccettabile concepire semplicemente un'idea di Dio diversa da questa tanto è vero che San Paolo scrive esplicitamente nelle sue lettere la lettera a Timotio Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità sta proprio scritto a carattere pubitali d'accordo Gesù nel Vangelo di San Giovanni dice che Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede in lui si è già autocondannato potremmo tradurre perché non ha creduto nel nome del Salvatore quindi la generazione di queste anime elette cioè di queste anime sante che Dio nella sua prescenza sa che avrebbero accolto e beneficiato dell'opera della redenzione avvenne come già diceva San Luigi Conforto per una rivelazione sicuramente personale al momento dell'incarnazione così come Abbe Eterno lo Spirito Santo spirano e distante stesso in cui il verbo generale dal padre guardate che tanta roba questa qui ok sicché riprendo la lettura tutto ciò che Abbe Eterno successe alla Santissima Trinità in cielo ripete nel seno della cara mamma mia l'opera era grandissima ed incalcolabile mente creata continua Gesù doveva centrare tutti i beni ed anche me stesso per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano perciò dovendo essere l'opera della redenzione tanto grande da travolgere tutte le generazioni vogli per tanti secoli le preghiere i sospiri le lacrime le penitenze di tanti patriarchi e profeti di tutto il popolo dell'Antico Testamento voi sapete che Abramo si colloca almeno ai tempi in cui ho studiato io perché ogni tanto cambiano le cose intorno al 1850 1900 avanti Cristo d'accordo e che i conti tornano parecchio tornano perché 1900 prima e 1900 dopo come poi vedremo i conti tornano parecchio parecchio ecco che cosa dice siccome questa era un'opera pazzesca fenomenale enorme l'opera della redenzione mica Dio la fa oggi al domani a partire da Abramo a cui furono fatte le prime promesse San Paolo ci scrive una lettera intera la lettera agli ebrei anche se molti testate fermo con la scritta San Paolo adesso non entriamo su questi argomenti comunque la lettera agli ebrei parla di questa cosa qui dove spiega come tutte le promesse fatte ad Abramo sono state tutte compiute in Cristo già ad Abramo allora da Abramo in poi hanno cominciato a sospirare a sospirare a sospirare a sospirare a pregare a lacrimare e ad annunciare chi? il Messia quello che dice dovendo essere l'opera della redenzione tanto grande da travolgere tutte le generazioni vogli per tanti secoli le preghiere i sospiri le lacrime le penitenze di tanti patriarchi e profeti di tutto il popolo dell'Antico Testamento e perché? e ciò feci per disporli a ricevere un tanto bene e per muovermi ad accentrare in questa celeste creatura la Divina Maria tutti i beni che dovevano fruire compri quindi una cosa tanto grande Gesù Dio non la fa dall'oggi al domani per noi che viviamo nel tempo la prepara con un lungo tempo di preghiere sospiri lacrime e penitenze non esclusi quelle di Maria Santissime e fino a quando non è diventata la madre del verbo ha come dire dato voce una voce stupenda a tutte le preghiere dell'Antico Testamento essendo stata la più grande sospiratrice e orante il Signore perché mandasse l'atteso Messia pur non sapendo lei di essere l'eletta per farla entrare sulla terra proseguo la lettura ora che muoveva a pregare a sospirare eccetera questo popolo la promessa del futuro Messia questa promessa era come il germe di tante suppliche e lacrime se non ci fosse stata questa promessa nessuno si sarebbe dato pensiero nessuno avrebbe sperato salvezza chiaro quindi questo è il fiat redimente come noi adesso lo possiamo chiamare ora figlia veniamo alla mia volontà guardate che è sorprendente il parallelismo è sorprendente santamente sconvolgente tu credi che sia una santità come le altre santità un bene una grazia quasi pare alle altre che ho fatto per tanti secoli agli altri santi e tutta la chiesa no 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 qui si tratta di un'epoca nuova di un bene che deve servire a tutte le generazioni e allora cosa succede Dio rifà la stessa cosa con il fiat santificante ormai dovremmo essere familiari con questi termini di quello che invece con il fiat redimente e se poi ci volessimo proprio pensare bene è la stessa cosa che è stata fatta anche con il fiat creante chi è che è stato creato nello stato di giustizia originale con dei beni che se avesse conservato avrebbero sarebbero come dire rifluiti su tutto il genere umano e avendoli perduti li ha perduti per sé e per tutti Adam identico sempre lo stesso Dio vedete che studiando bene la rivelazione andiamo a a conoscere i segreti dell'altissimo c'è questo modo ne prende uno per beneficiare tutti se uno funziona va bene per tutti se uno non funziona sono guai per tutti Adam non ha funzionato solo che la Madonna non ha funzionato eppure Luisa ha funzionato la terza adesso lo vedremo subito qui si tratta di un'epoca nuova che deve servire a tutte le generazioni ma è necessario che tutto questo bene cioè il bene della mia volontà la centri primo in una sola come feci nella redenzione accentrando tutto nella mia mamma e vedi un po' come le cose vanno pari passo guardate questo è un brano fondamentale a mio viso per far venire la redenzione e disporre le anime a questo feci la promessa del futuro Messia già dai tempi di Abramo affinché con lo sperarlo non solo si disponessero ma potessero trovare anche essi nel futuro redentore la loro salvezza ora per disporre le anime a vivere nel mio volere e metterle a parte dei beni che esso contiene e far ritornare l'uomo sulla via della sua origine come da me fu creato vogli io ha cominciato Gesù a pregare per questo vogli io pregare per primo facendo risuonare la mia voce da un punto all'altro della terra e fin nell'alto dei cieli dicendo padre nostro che sei nei cieli bellissima eh non dissi padre mio ma lo chiamai padre di tutta l'umana famiglia per impegnarlo in ciò che doveva soggiungere che tutti santifico il tuo nome affinché venga il regno tuo sulla terra e la tua volontà si faccia cominciare così in terra guarda il cosiddetto fiat santificante è sintetizzato nelle parole del padre nostro ecco perché è tutto nuovo ma non è niente nuovo fiat volontà stua si cuti in cielo e ti interna questo è il fiat santificante cos'è il fiat creante fiat lux cos'è il fiat redimente fiat michi ecco perché l'importanza della parola fiat che non è uno slogan tanto per dire qualcosa adesso noi stavamo a dire una volontà abbiamo la parola d'ordine che è fiat no cioè cosa grossa si faccia la tua volontà cominciare così in terra in latino è fiat volontà stua si cuti in cielo e ti interna allora era questo lo scopo della creazione ed io chiedevo al padre che fosse compiuto cioè quello scopo per cui Adamo stesso fu creato e che perso come singolo era perso per il genere umano in Gesù e Maria è stato recuperato come singoli è ampliato per tutto il genere umano attraverso la retenzione adesso cosa succede nel momento in cui questo deve essere compiuto realmente trasmesso dilatato e dopo che Gesù ha cominciato ad annunciarlo perché ci ha insegnato la preghiera del padre nostro anche senza spiegare bene che cosa intendeva profondamente con fiat volontà stua ma ce l'ha fatta recitare per quanti millenni cioè i cristiani possono c'è qualcuno che non è tanto devoto alla Madonna d'accordo che quindi è un po' più allergico all'ave Maria ma il padre nostro lo dicono tutti il padre nostro lo dicono tutti tutti anche i protestanti anche gli ortodossi tutti 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 nessuno escluso d'accordo e la patto quanti padri nostri saranno stati detti dall'anno 30 fino al 1900 tanti proprio tanti d'accordo tantissimi enormità ecco era questo riprendo la lettura lo scopo della creazione ed io chiedevo al padre che fosse compiuto come io pregai il padre come io pregai scusate il padre c'è detta le mie suppliche e formai il germe di un tanto bene fin dei tempi in cui stava giù sulla terra attenzione e per fare che questo germe fosse conosciuto insegnai agli apostoli la mia preghiera e questi la trasmissero a tutta la chiesa affinché come il popolo del futuro redentore trovava la salvezza in esso e si disponeva a ricevere il promesso messia antico testamento così con questo nuovo germe formato da me la chiesa prega e ripete tante volte la stessa mia preghiera e che cosa fa così? si dispone a ricevere che riconoscano ed ammio il mio celeste padre come padre loro in modo da meritare di essere amati da figli e ricevano il grande bene che la mia volontà si faccia come in cielo così in terra abbiamo capito gli stessi santi in questo germe ed in questa speranza che la mia volontà si faccia come in cielo così in terra hanno formato la loro santità il martire ha sparso il suo sangue non c'è bene che da questo germe non derivi sicché tutta la chiesa prega e così come le lacrime le penitenze le preghiere per avere il messia antico testamento erano dirette per quella vergine eccelsa che dovevo disporre per accentrare un tanto bene per poter gli uomini dell'antico testamento ricevere il loro salvatore sebbene non conoscevano chi fosse quella vergine eccelsa la mater abscondita la madonna è stata completamente sconosciuta durante il soggiorno sul suo pianeta terra nessuno si rendeva conto di chi fosse lei sembrava un'umile donnicella insignificante di uno sperduto villaggio della galilea questa è una delle cose per me in assoluto più sconvolgenti di tutte capito impressionante se c'è proprio una cosa che tanto desidererei questo chiaramente è un sogno a occhi aperti perché non è roba è di vedere un giorno della vita terrena della madonna cioè vedere come nella più assoluta ferialità e apparente insignificanza andava snuotandosi la vita di creatura che mai c'è stata mai ci sarà mai ci fu unica d'accordo cioè questo è proprio un modo a mio avviso non lo so più che sorprendente dell'agire di Dio quindi come tutte queste cose in vista della vergine sebbene non conoscevano chi fosse consiglio la chiesa quando recite il paternoster sentite un po' immaginate adesso la faccia di Luisa è proprio per te che prega mamma mia cioè immaginate Luisa Piccarretta che esiste queste robe e Gesù gli dice sai una cosa che ti dico sono 20 secoli che stanno pregando il padre nostro per te pum cioè ecco questa è un'altra cosa che mi piacerebbe proprio tanto essere stata a immaginarmi la faccia che ha fatto Luisa Piccarretta capite è tanta roba questa qui no è proprio per te che prega per far sì per far sì che io accentri in te attenzione tutto il bene che contiene il mio volere il modo attenzione il come guardate cosa dice Gesù che la volontà divina abbia vita in terra come in cielo vedete perché qui non si tratta di un qualcosa ma di un come di un modo e sebbene non sei conosciuta ma chi la conosce Luisa Piccarretta ma forse non la conosce nessuno ma manca adesso meno che mai allora la conosceva qualcuno dentro il paesello suo e sapeva che c'era questa donna mezza inferma dentro un letto che era tanto buona tanto brava e la chiamavano Luisa la Santa ma capito Luisa la Santa come si dice basta ma lei che era tutta tanta questa grande non stava certamente su facebook non c'era certamente riflettori accesi intorno ecco scusate la battuta e sebbene non sei conosciuta la chiesa facendo ecco la mia preghiera sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra mi prega mi pressi che accentri tutto questo bene in una seconda vergine pensando pure a sentirsi dire questa cara Luisa guarda oggi ti devo dire due cose guarda due però mettiti seduta mettiti comoda sappi che da 2000 anni si prega il Padre Nostro per te poi c'è un'altra cosa cioè tu stai al Regno della Divina volontà come la Madonna stava all'opera della redenzione cioè capito tu sei la novella vergine cioè ragazzi e poi attenzione finita questa questa rivelazione non c'è stato nessuno che è entrato e ha detto fermi tutti stiamo su scherzi a parte non è successo così cioè così era allora mi prega mi pressa che accentri tutto questo bene in una seconda vergine affinché come un'altra salvatrice salvi l'umanità pericolante e facendo uso del mio inseparabile amore e misericordia io esaudisca la mia stessa preghiera unita a quella di tutta la chiesa ed io faccia ritornare l'uomo alla sua origine allo scopo con cui l'ho creato cioè che la mia volontà si faccia in terra come in cielo è questo proprio il vivere nel mio volere tutto ciò che ti vado manifestando a questo ti spinge in questo ti confermo questo è il gran fondamento che vado formando nell'anima tua continuo a leggere che dopo faccio un po' una ricopitolazione per fare ciò vado accentrando tutte le grazie passate presenti e future attenzione che ho fatto a tutte le generazioni anzi le raddoppio le moltiplico perché essendo il mio volere la cosa più grande più santa più nobile che non ha né principio né fine per deporlo in una creatura è giusto e decoroso che accentri in essa tutti i beni possibili grazie innumerevoli purità e nobiltà divina affinché abbia lo stesso corteggio che tiene nel cielo questa mia volontà è la stessa che operò nella redenzione che volle servirsi di una vergine quali portenti e prodigi di grazia non operò in essa la mia volontà lei è grande contiene tutti i beni e nell'operare agisce da magnanima e se si tratta di fare opere e di fare bene a tutta l'umanità mette a repentaglio tutti i suoi beni adesso riprendiamo un attimo respiro insomma perché questo è la premessa allora il discorso è sempre per far capire perché si qui stiamo nella rassegna dei brani scelti ma sono una rassegna di brani scelti dentro un contesto dentro una logica che ha questo ciclo di catechesi perché dentro questo ciclo di catechesi ringrazio Dio che Maria qualche mail che l'effetto sembra che stia riuscendo occorre dare una visione sintetica sistematica ed esauriente di che cosa è la divina volontà si chiamano il dono della divina volontà questa cosa deve essere possibilmente il più possibile conosciuta e compresa questo è il fine di questo catechesi allora ci abbiamo ripetiamo un'altra volta Dio crea perché crea l'umanità perché crea Dio crea l'umanità perché delle creature intelligenti a lui simili fossero capaci di vivere godendo di una felicità infinita di un amore infinito che caratterizza la vita trinitaria solo per questo Dio ha creato non per altri motivi tutto questo l'aveva accentrato per quanto riguarda la razza umana adesso lasciamo perdere la storia degli angeli nel nostro progenitore tutto concentrato tutto accentrato e tutto sublimato nella partecipazione a questo suo immenso patrimonio chiamiamolo così che è la volontà divina che è la fonte di ogni bene che esce dall'altissimo e che è la fonte di ogni possibile felicità in due parole c'era una meditazione che ho fatto stamattina terzo volume cioè allora vivi nella divina volontà sì allora se vivi nella divina volontà tu conosci una felicità indescrivibile non è che sei soltanto felice ma sta come una pasqua stai se qualcuno ti dice ma che hai fatto non lo so non lo so descrivere una cosa troppo grossa capite chi si è minimamente affacciato in questo mondo questa cosa l'avverte capito e se non l'avverte è impossibile che a contatto con la fonte della felicità uno non sia felice è impossibile allora succede il marasma Adamo rifiuta la divina volontà pecca si stacca da Dio e succede il finimondo d'accordo tenete presente che ecco l'umanità va a scatapascio questa è la sintesi della storia della salvezza scatapascio 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 di lui universale in picci in broglie torre di babere dopodiché comincia la storia della salvezza siamo così in vesto ufficiale con Abramo la chiamata da Abramo siamo intorno al 1850 1900 a.C da qui che cosa succede immediatamente Dio promette una discendenza di torre una discendenza e il discendente per Antonomasi chi è il discendente per Antonomasi è il salvatore l'atteso delle genti si innesca in concomitanza con la nascita di questo popolo che nasce appunto da Abramo un'attesa un'attesa formata di preghiere di sospiri di lacrime di annunci durata circa 1900 anni per cosa? perché arrivasse qualcuno che salvasse l'umanità che quindi riparasse togliesse il male e reimettesse l'uomo nella possibilità di vivere nell'amicizia almeno con lui chi lo fa? questo lo fa nostro signore Gesù Cristo sempre un singolo e attraverso una singola attenzione così come Adam Medeva erano due allora per fare quest'opera del fiat redimente cosa fa? tutti i beni della redenzione li concentra in una sola creatura che è la madonna ecco perché lei è la piena di grazia è il luogo di tutte le grazie la mediatrice di tutte le grazie perché ce le ha avute tutte tra cui quella del tutto peculiare del germe divino capace di dare la santissima umanità al figlio di Dio quindi di generare umanamente colui che abba eterno era generato divinamente e in questa generazione umana che è l'incarnazione del figlio di Dio contestualmente vengono identificate e scelte tutte quante le anime che faranno parte del corpo mistico del salvatore che era a chiesa d'accordo? questa era però la prima parte dell'opera della redenzione perché finalizzata fondamentalmente a distruggere il male e a restituire la grazia perduta dentro una condizione dell'uomo che tutti quanti noi ne facciamo esperienza però di permanente debolezza fragilità peccaminosità che permane e che permane a volte in maniera così forte che addirittura a qualcuno penso per esempio agli autori della riforma protestante la percezione e l'esperienza del peccato dell'uomo e della sua a volte serietà gli ha fatto addirittura pensare che è una cosa talmente grande che per quanto Gesù ci avesse redenti però noi non cambiamo realmente cioè siamo semplicemente in qualche modo coperti dalla santità di Gesù Cristo questa è la dottrina della giustificazione proprio del mondo protestante che come dire è ovviamente erronea ma si bada sul fatto che si la propria della redenzione è stata compiuta però a morire moriamo le malattie sono rimaste i terremoti sono rimasti le guerre sono rimasti i peccati ne facciamo una valanga in continuazione quindi tutta se è gran cosa si è stata messa si è vero che ci stanno anche tanti santi ma i santi diventano santi a tribola a croci cose preghiere venitenze mortificazioni insomma si è successo qualcosa ma i guai ce ne stanno ancora tanti è certo perché ancora come dire l'opera della redenzione che è perfetta era però aperta al suo perfetto compimento nell'opera della santificazione perfetta che è il regno della divina volontà in cielo come in terra allora che ha fatto Gesù l'ha promesso pregandoci lui per primo nel padre nostro nel padre nostro fiat volontà stua si corincia in terra ci ha pregato lui e quando lui pregava sapeva quello che diceva poi era insegnata agli apostoli e agli apostoli chiaramente non gliel'ha spiegato tutto quanto su granché ce l'ha fatta recitare per 2000 anni e ancora 1900 anni dopo come 1900 anni prima c'era stata Abramo che cosa ha fatto ha scelto una vergine ancora più insignificante guardate che la madonna cioè la madonna è una la madonna sulla terra era nn ma meno che nn non se la filava proprio nessuno era proprio la creatura più insignificante lei mi capisce il senso che esisteva il mondo cioè siamo noi e non tutti neanche oggi perché ancora molti minimizzano la madonna nonostante che sia evidente insomma chi sia ma la madonna quando viveva ma proprio non se la filava con nessuno cioè il giorno dell'annunciazione c'era l'arcangelo il giorno della nascita di Gesù c'era una povera donna che l'avevano sbattuta fuori gli alberghi che non sapevano di andare a partorire se non era di andare a partorire dentro una stalla non immaginiamo in maniera come dire troppo folclorica diciamo così l'opera della redenzione è stata così e così si è presa questa povera donna di un paesino piccolo sperduto della Puglia dell'Italia riducendola dentro una vita da auto reclusa con dei fenomeni strani tipo tutte le sue rigidità le cose di questo genere se l'è coccolata se l'è cullata e ne ha fatto piano piano formandola non dall'oggi al domani anche a lei la depositaria la prima a ricevere il dono del divino volere una persona che non ci capisce niente queste cose qua e che aveva la prima elementare e che io non riesco a capire come nostro signore gli abbia fatto gli sia riuscito a far capire delle cose che insomma io che sono prete che ho tanto studiato che ho la laurea in teologia dogmatica ho fatto fatica insomma a stargli questa legge tranquillamente e passavo i giorni e le notte girando e riparando in tutti i modi possibili immaginabili cioè io se ci penso capisco alcuni aspetti veramente sconcertanti di questo tipo di operazione ma mi rendo perfettamente conto che sono grossi per questo che ci serve come dire un po' di catechesi che sia chiarificante e come l'opera della retenzione si è accentrata in Maria per poi passare in tutti i redenti così l'opera della santificazione il fila santificante si accentra in Luisa perché dopo che Luisa l'ha vissuto le porte sono aperte a chiunque lo voglia vivere dopo però e quindi da subito anche per noi da subito anche anche per noi chiudo la lettura che siamo anche in chiusura di trasmissioni ora vuole servirsi di un'altra vergine per accentrare la sua volontà e dare principio a far conoscere che la sua volontà si faccia in terra come in cielo guardate che noi non ci pensiamo abbastanza bene la sua volontà in terra come in cielo ma come si fa la volontà di Dio in cielo guardate che in cielo la volontà di Dio cioè la volontà di Dio è la vita degli abitanti del cielo cioè in cielo non si fa nient'altro che solo e sempre esclusivamente la divina volontà e anche la volontà dei beati coincide con quella di Dio capite perché la condizione qui bisogna leggere santo maso da Quino i comprensori cioè beati appena una persona vede Dio non può non fare più nient'altro che la sua volontà perché talmente tanto è grande l'amore che si ha nei suoi confronti è talmente tanta la consapevolezza della perfezione assoluta e assolutamente come dire inimmaginabile che ha divina volontà che ha un'anima del beato ogni passa manco per l'anticamera del cervello di fare un'altra cosa gli viene spontaneo come la prima cosa da fare capito? e se nella retenzione vuole venire a salvare l'uomo perduto a soddisfare le sue colpe a cui lui uomo era impotente di farlo a dargli un rifugio e tanti altri beni che la retenzione contiene ora la mia volontà volendo sfoggiare più in amore che nella stessa retenzione col fare che si faccia in terra come in cielo viene a dare all'uomo il suo stato d'origine torniamo alla creazione abbiamo detto nella prima parte di queste catechetici la sua nobiltà lo scopo con cui fu creato viene ad aprire la corrente tra la volontà sua e l'umana in modo che assorbita da questa volontà divina virgola dominata le darà vita in essa con la E maiuscola e lei regnerà in terra come in cielo questo significa ipsofatto ma ipsofatto cioè appena questo accade tu cominci a vivere la beatitudine terrestre che se non è certamente uguale alla beatitudine celeste perché il paradiso rimane comunque il paradiso c'è anche il paradiso terrestre si chiamava paradiso terrestre appunto che distingue dal paradiso celeste che è più grande è più bello non è la stessa cosa perché se no ci porta direttamente tutti quanti il paradiso e ci passiamo per niente per tenere da terra però insomma rispetto al disastro cioè alla vita che gli uomini mediamente conducono anche le anime devote anche le anime vicine perché a volte scusatemi figli se vedono certi musi lunghi che ti fanno passare la voglia andando in chiesa perdonatemi cioè se devo andare in chiesa devo diventare un muso lungo come il tuo me ne vado al cinema me ne vado almeno mi risolve il problema per due ore il muso lungo mi passa tu ce l'hai in perpetuo io almeno un paio d'ore mi distendo ecco scusatemi la battuta però è così quindi è una cosa grossa questa non è ti si sistema qualche problemino d'accordo stai un po' meglio d'accordo c'è un po' meno problemi c'è qualche consolazione no no qui si tratta di altro perché se la volontà divina regna nella mia anima come in cielo cioè sono talmente evuso che non faccio altro non respiro altro non mi muovo in altro che ciò che la divina volontà è io sarò la persona più felice della terra spanderò gioia beneficità dovunque e non mi devo preoccupare di altro perché se questo c'è c'è tutto se questo non c'è tutto diventa più complicato come minimo bene ci aggiorniamo se ti vuole alla prossima settimana do i miei saluti a tutti ave Maria grazie a tutti